La partita l'abbiamo vista tutti, è un risultato che sta molto stretto, sarebbe stato importante anche una vittoria di misura, più che altro per il morale, però poi vedremo domani dopo la nottata che non è un bruttissimo risultato questo, per andare fuori dobbiamo perdere e vincendo o pareggiando non siamo fuori, anzi siamo noi. Lei l'aveva detto, si giocherà sui 180 minuti e ce la giocheremo a Copenaghen? Sì, era prevedibile, vista la partita di stasera potevamo avere un buon vantaggio, ma anche così sarà da giocare là, certo che ci sarà fattore campo a favore loro, però anche le condizioni nel campo saranno buone e noi se giochiamo con personalità, insomma le squadre poi sono queste, non è che le cambiano e quindi possiamo giocare. Anche perché l'Atalanta ha dimostrato di saper giocare in casa, ma di saper giocare anche fuori casa. Sì, fuori casa c'è il pericolo di qualche episodio, di qualche situazione un po' strana, ma noi dobbiamo andare sopra anche agli episodi, abbiamo la possibilità, la condizione, la mentalità per giocare anche oltre gli episodi sfortunati e possiamo ancora giocarci tutte le nostre carte. Partita per partita, adesso tre giorni e ce n'è un'altra in campionato contro la Roma. Questa ti assicuro che non ci ho pensato, quindi non so cosa dire, ci penserò stasera. Questo è anche indice di come si vivono questi appuntamenti in casa Atalanta, partita per partita, non è una bugia quella che raccontate quando lo dite. No, assolutamente, anche perché comunque le partite un po' pesano, soprattutto quando giochi lunedì, io un po' di fatica nel finale, a parte che è difficile dirlo perché faceva molto caldo, forse loro erano più affaticati di noi, però magari nel tiro una conclusione, uno stop in linea di massima, è chiaro che non ci fa piacere giocare lunedì e poi di nuovo giovedì, non è il massimo, questo l'abbiamo già detto, cercheremo di fare bene anche Roma. In questo momento la priorità è l'Europa perché quando hai un seguito così importante, un entusiasmo così importante alle spalle, vuoi cercare di dare soddisfazione al tuo pubblico, continuare ad andare in giro per l'Europa, per me già dall'anno scorso come abbiamo finito il campionato io pensavo ai preliminari per poter passarli, di fare il tutto per passarli perché questa gente lo merita.